Quindi ho pensato di presentarlo a mio amico Lui che è in città con due amici, così vediamo se abbassa la cresta. Volete davvero farglielo fare? Sì, alto o che? Prima ti faccio allenare su un'attrezza, così vediamo a te il livello 6 fino a metterti sul gioco. Ma con l'allenamento, andiamo. Questo non è un gioco, è roba sempre. Quella bestia può uccidere... Non me la mi usa. È stupendo. Sì, sì, di potenza. È meravigliosa, ragazzi. Senza l'ora. Con facile appuntamento. Con soluzione assicurazione risparmese da 500 euro. Faccio un po' di faccio. Traviare sulla polizza auto. È facile. Dove ne capisci? Non so, ho messo troppo in faccia, porca se. Mi pesano un casino così. Non c'è chi vederti? No! Faccio un po' troppo fatica, fa che non si faccia. Ma che... Grazie.